Inferno, canto quinto Or incomincian le dolenti note A farmisi sentire Or son venuto là Dove molto pianto Mi percuote Io venni in loco D'ogne luce muto Che muggia Come fa mar per tempesta Se da contrari venti È combattuto La bufera infernal Che mai non resta Mena gli spiriti Con la sua rapina Voltando e percotendo Li molesta Quando giungon davanti alla ruina Quivi le strida Il compianto Il lamento Bestemmian quivi La virtù divina Intesi Che a così fatto tormento Enno dannati I peccator carnali Che la ragion Non sommettono al talento Canto quinto Dei lussuriosi Il canto si apre con il vento Un vento che toglie lucidità Un vento Un vento Vorticoso Nel quale noi vediamo Girare I dannati È un'immagine Fortissima Bellissima Come tutte le immagini Scenografiche Che incontreremo poi Nel settimo canto Forse una delle immagini Più forti Dell'inferro Questa Questa infinito Questo infinito Mare di bare Incendiate Ma qui Entriamo nel canto In questo modo Così forte Portati proprio Dentro Da una Da una Folata Divento Maligno Divento cattivo Cosa Cosa le fa venire in mente Subito Cosa ci può dire Di questo Di questo Incipit Del quinto canto Intanto siamo Realmente nell'inferno Perché prima Tra il limbo Gli gnavi Insomma nell'inferno Vero e proprio Non eravamo arrivati E siamo accolti Prima dal buio Perché la prima sensazione Che dà questo canto È che manchi Qualunque luce Qualunque illuminazione Esterna Interna E poi c'è questo Questa bufera La bufera infernal Che mai non resta Parentesi La bufera È il titolo Di una delle raccolte Di poesie di Montale Espressamente Ispirato a Dante La bufera di Montale Della seconda guerra mondiale E qui è la bufera Che travolge I lussuriosi Che Dante Mette All'inizio Dell'inferno Per la chiesa I lussuriosi Andavano messi in fondo E Dante Quindi capovolge Le regole Della chiesa Seguendo invece La dottrina aristotelica Per la quale In fondo Gli incontinenti Non hanno Compiuto dei peccati Di grandissima portata Anche se sono condannati L'inferno Cos'è questa bufera Perché Dante Comincia con questo Vortice E qui entra in ballo Uno degli argomenti Che ci accompagnerà Per tutto questo viaggio Cioè il contrapasso Come tu in vita Hai peccato Per questa ragione Così Per l'eternità Al contrario Contrapasso Patire Soffrire Sopporterai qualcosa Di contrario Come in vita Questi lussuriosi Sono stati travolti Dalla passione Per l'eternità Saranno travolti Dalla tempesta Che li mina Cioè li mina Anche qui Nel senso un po' Come usiamo adesso Come si dice A Roma Molte meno Cioè Non solo ti conduco Ma ti conduco Anche in maniera Abbastanza vivace Quindi E di fatti Questi poveretti Non possono porre Nessuna resistenza A questo turbine Che li travolge C'è un tema Che mi ha molto Diciamo Molto Colpito Insomma Che mi ha Che mi ha riportato All'attualità In questo canto Sono Passati Settecento anni Ma I soprusi E le violenze Dell'uomo Quasi sempre Compagno O marito Che pensa Di disporre Della donna Come cosa propria Continuano Ininterrottamente Ininterrotti Così come scopriremo Per tantissimi Altri Peccati Durante L'inferno Che leggeremo Il tempo Sembra Non portare Consiglio All'uomo Il tema Del femminicidio Dell'omicidio Delle donne È un tema Assolutamente Molto presente In questo canto Cosa ci può Raccontare O dire A proposito Professore Beh intanto È notevole Il fatto Che Dante Abbia scelto Come prima Protagonista Della commedia Una donna Nel medioevo La donna Era considerata Un appendice Del tutto Passiva Dell'uomo La donna Serviva Per procreare O se no Serviva nella poesia Stilnovista Per dare Un'elevazione Morale Ma la donna Come entità Con dei sentimenti Con delle colpe Non era contemplata O se no C'era la donna Disponibile E delle novelle Licenziose Di Boccaccio Ma la donna Nella sua identicità Non esisteva Dante addirittura La promuove Prima protagonista Addirittura Dante La fa parlare Da sola Che era proibito Cioè la donna In pubblico Non poteva parlare E Dante Fa fare a una donna Il primo monologo Questo significa Andare contro I propri tempi Certo Francesca Spesso si dice Il canto di Paolo E Francesca Paolo non c'entra nulla Lì è muto Che assiste Al monologo Di Francesca Anche abbastanza Sbiadito Francesca da Rimini Non era da Rimini Francesca era di Ravenna E sposa Gianciotto Malatesta Da Rimini Però la sua identità È di Francesca Da Polenta Da Ravenna E dunque Già in questo Si nota in Dante La spinta Ad andare contro Il suo tempo E Francesca È il personaggio Emblematico Di questo Non è l'unica donna Che subisce Dall'uomo Certamente Viene uccisa Poi Se mai diciamo Su Dante Questo non si diffonde Ma non si dilunga Molto E il modo Ancora mi offende Come sono morto Non ve lo dico È un modo offensivo La mia persona È diventata brutta Per questa mia fine Però non è il caso Di perderci il chiacchiere Ma poi anche Pia De Tolomei Muore Il marito E a un certo punto Dice Ma sì C'è una giovane ragazza Che è più Più piacente E scaraventa Pia De Tolomei Dalla finestra E poi C'è una certa Ghisola Che accetta Dal fratello Di Scrive Dante Far la voglia Del marchese Di un Di un Di un este Che il fratello Voleva farsi Alleato E anche qui Poi il responsabile Venevico Caccia nemico Non dà dettagli Dice Come che suoni La sconcia novella Cioè non voglia Andare a fondo Altro caso Anche questo Che può rientrare Nelle nostre cronache E a un certo punto Piccarda Donati Che aveva scelto Di farsi suora Viene rapita Dal fratello Perché? Perché il fratello Vuole che si sposi Un possibile alleato Ecco come Dante Denuncia la violenza Sulle donne Francesca è la prima Ma poi ce ne sono altre E donne che sono presenti Sempre Anche il primo canto Del purgatorio A una donna Marzia Che anche lei Non andava d'accordo Con il marito Vorrei aggiungere Una piccola cosa Che spesso non si sa Dopo la morte di Francesca Il padre Appunto da Polenta Tanto Francesca Si era sposata Con il bianciotto Malatesta Per una ragione politica Per fare un accordo Tra i riminesi E i ravennati Per difendersi Dall'invadenza Di Venezia Che stava sempre più Espandendosi Nel mar Adriatico Bene Dopo questo L'uccisione Della figlia I rapporti Continuano Imperterriti Ma la testa Continuerà A aiutare A essere aiutato Da Polenta E questo perché Perché in effetti L'uccisione Di Francesca Rientrava Nella Lecito diritto Del marito Di uccidere Il fratello Ma non perché Aveva violato La moglie Ma perché Era entrato In casa sua Secondo L'edito Di Lotari Chiunque Entrasse In casa Di altri Senza permesso Poteva essere Ucciso Quindi il primo Slancio Non è quello Di vendicarsi Per il tradimento Della moglie Ma semplicemente Perché c'era Forse un ladro Che era suo fratello Che era entrato In casa Questo vi dà Il senso Ancora della condizione Della donna Muore mia figlia Vabbè pazienza Io rimango Alleato Di malatesta Ancora una cosa Che mi ha molto Molto colpito Forse Paolo Non è Così protagonista Anche se io Lo considero Tale Perché lui Sta in silenzio Forse un po' Sbiadito Ma Ma piange Quando lei racconta E piange Disperatamente Avvinghiato A lei Di certo Il protagonista Del monologo E del canto È anche un altro Francesca usa Tre volte La parola Amore Senza dire L'amore Ma Amore Con la A Maiuscola Nel Nel raccontare La sua storia E quindi Amore È Secondo me Protagonista Del canto Assieme A Paolo E Francesca Che cosa Che cosa Le viene in mente Se io dico Amore Nella Nella commedia Mi viene in mente Un trattato Di Andrea Cappellano Intitolato Appunto De Amore Nel quale Si diceva Che i matrimoni Sono un fatto Economico E politico E quindi Sono privi Amore L'amore vero Era quello Dell'adulterio Perché è un amore Che nasce dalla passione E questo è anche interessante Perché nella poesia Provenzale Era un topos Cioè Un elemento ricorrente Il marito fa La sua carriera politica Come Gianciotto Il marito di Francesca E però Può capitare Che incontri qualcuno Per il quale Ha una passione Del resto Lo stesso Dante Aveva sposato Gemma Donati Perché a 12 anni Le due famiglie Avevano fatto Un trattato Di matrimonio Poi lo sposa Un po' più avanti Però c'è questo matrimonio Con Gemma Donati Che poi non compare Nella commedia Non si hanno notizie Su di lei E quindi C'era questa realtà Del resto Il matrimonio Diventa un sacramento Credo col concilio Di Trento Quindi allora Era anche proprio visto Come un puro atto Giudiziario Per avvicinare Famiglie Che avevano bisogno Di supporto reciproco Quindi professore Se il matrimonio Risulta come Un patto Politico Anche nella commedia Abbiamo questa Questo tipo di Variante O di spiegazione Del matrimonio Ma nella commedia In realtà Non ci sono Matrimoni felici Ci sono Mariti Che come abbiamo visto In maniera anche violenta Rifiutano le mogli Ci sono anche mogli Che tradiscono i mariti Appunto Marzia del primo canto Del purgatorio Abbandonato Catone Poi è tornata Ma ci sono altri episodi Di mogli Che addirittura Disturbano i mariti Forse uno dei personaggi Che troveremo Tra i violenti Contro natura È diventato tale Perché la moglie Lo opprimeva E quindi Può essere C'è però Un matrimonio Che finisce bene Che Dante celebra E quale sarà Quello Di San Francesco Con la povertà Credo che dica tutto Grazie I cominciai Poeta Volentieri Parlerei A quei due Che insieme Vanno E paion Si al vento Esser Leggeri Ed egli A me Vedrai Quando saranno Più presso A noi E tu Allor Li priega Per quello Amor Che i mena Ed ei Verranno Si tosto Come il vento A noi Li piega Mossi la voce O Anime affannate Venite a noi Parlar S'altri Non niega Quali Colombe Dal disio Chiamate Con l'ali Alzate E ferme Al dolce Nido Venion Per l'aere Dal voler Portate Cotali Uscir Della schiera Ov'è Dido A noi Venendo Per l'aere Maligno Si forte Fu L'affettuoso Grido Oh Piace Noi Noi Udiremo E parleremo A voi Mentre che il vento Come fa Ci tace Siede Siede La terra Dove nata Fui Sulla marina Dove il po' discende Per aver pace Coi seguaci Sui Amor Calcòr gentil Ratto S'apprende Prese costui Della bella Persona Che mi fu tolta E il modo Ancor M'offende Amor Canullo Amato Amar Perdona Mi prese Del costui Piacere Si forte Che Come vedi Ancor Non m'abbandona Amor Condusse Noi Ad una Morte Caina Attende Chi A vita Ci Spense Queste parole Da lor Ci fu Or porte Quand'io Intesi Quell'anime Offense Chinai Il viso E tanto Il tenni Basso Finchè Il poeta Mi disse Che Pense Quando Rispuosi Cominciai Oh Lasso Quanti Dolci Pensier Quanto Disio Menò Costoro Al doloroso Passo Poi Mi Rivolsi A loro E Parla Io E Cominciai Francesca I Tuoi Martiri A Lagrimarmi Fanno Tristo E Pio Ma Dimmi Al tempo Di dolci Sospiri A che E come Concedete Amore Che Conosceste I Dubbiosi Disiri E Quella A me Nessun Maggior Dolore Che Ricordarsi Del Tempo Felice Nella Miseria E Ciò Sa Il Tuo Dottore Ma Sa Conoscere La Prima Radice Del Nostro Amor Tu Hai Cotanto Affetto Dirò Come Colui Che Piange E Dice Noi Leggiavamo Un giorno Per diletto Di lanciallotto Come Amor Lo Strinse Soli Eravamo E Senza Alcun Sospetto Per Più Fiate Gli Occhi Ci Sospinse Quella Lettura E Scolorocci Il Viso Ma Solo Un Punto Fu Quel Che Ci Vinse Quando Leggemmo Il Disiato Riso Essere Basciato Da Cotanto Amante Questi Che Mai Da Me Non Fia Diviso La Bocca Mi Basciò Tutto Tremante Galeotto Fu Il Libro E Chi Lo Scrisse Quel Giorno Più Non Vi Leggemmo Avante Mentre Che L'uno Spirito Questo Disse L'altro Piancea Sicché Di Pietade Io Venni Men Così Com' Io Morisse E Caddi Come Corpo Morto Cade Po f Tammai Ch Lu